ehi ma vedi che se tengo il peso di qui cado di qui devi fare come i cani su sull'albero BAM 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 Vai tirando la mentira Vai che torce essa moto eh Eh torce essa moto eh Vai aiai Vai Aiai 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 Sarà in terza sarà Sarà in terza Troppi per come va ancora adesso No ma quanti ha niente Sarà Due tre Eh le spalle Sarà anche adesano ormai Vedi 25 anni Quanti 25 anni Il primo anno ha imparato ad accendere la moto Vedi così si fa E' uguale Secondo a mettere le braccia Dei Fai il legno Fai il legno Fai il legno Fai il legno C'è il legno che persa tu lo fico Il legno Cosa c'è un legno Hai un legno la zona di prima dai, su, fa il tronco e giraci intorno però sotto lì non ha girato ah, hai vinto o sassone, hai vinto o sassone peccio fanti Così è buono! E' un sacco di rullo di qui ne ero? Non è così passato. E' un sacco di rullo. E' un sacco di rullo. Non ho fatto un sacco. Non ho fatto un sacco di rullo. ma la fai uguale devi mettere sotto un invito fai uguale prova a vedere se riesco a rompergli il parafango stai attento che tenta a spegnersi però la camera d'aria che cazzo fai qua? non c'è lui ma come cazzo fai? andai in giro cazzo gira meglio che quell'altra cazzo gira bene è che è un metro in meno perché non frena un cazzo? non c'è matrizzata è questa che non va bene però vedi che con l'invito vai su il mio fa così eh cioè non riesci e allora hai fatto uguale eh perché? cioè veramente oh perché così eh ti ho detto eh uguale ma più veloce uguale ma più veloce più veloce un po' più veloce e risu giusto eh un po' più veloce e risu giusto perfetto eh senza piedi e allora cazzo con l'invito va su da sola la credere non vedi non vedi neanche ecco un po' più veloce il giro e il giro ma komti a meno vedi da vai giù ma non vedete prima che gli rompo qualcosa e no ma i tempi prima di andare su col garelli o col cordo dove cazzo andare? per sforza, per sforza, guarda che no così è una stupidità ecco perché è una stupidata perché se coppa la sotto lì se devi uscire un po più alto e uscire perché ti ammazzi basta dai che c'è dentro la merenda c'è dentro la merenda lì ciao ragazzi ci vediamo domenica c'è dentro il phon tanto brodo e poca pasta che sappiamo che consuma